46 per cui è quasi la seconda ci siamo partiti è in vantaggio class live davanti a mister vellucci black stage gossip park and city iftar touch noir e san medaglia d'oro all'inizio della curva è in vantaggio class class live davanti a cash game giotti black stage gossip mister vellucci poco prima dall'intresso addirittura è in vantaggio class live attaccata all'esterno da cash game seguono gioiti e mister vellucci i cavalli entrano in dirittura con class live in vantaggio attaccata all'esterno da cash game a centro pista san medaglia d'oro seguono touch noir gioiti e passa cash game attaccata all'esterno da san medaglia d'oro lungo la corda mister vellucci passa san medaglia d'oro davanti a mister vellucci touch noir e class live si avvantaggia san medaglia d'oro davanti a touch noir mister vellucci class live class live i tre che a tre c'è da mangi i tre che a tre c'è da mangi i tre che a tre c'è da mangi i 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 tre c'è da mangi Grazie. Grazie.